a quello che succede e qualcuno dice no qui bisogna accelerare altro che ritardare queste misure ma io finirò in prigione quando governeranno i verdi perché non credo che l'impatto dell'uomo su queste catastrofi sia quello più importante decisivo e credo che siano cicli che a volte durano anche 400 anni mi piace osservare quello che stanno facendo i nostri competitor la cina ha aperto e investito su nuove miniere di carbone quasi 200 negli ultimi due anni gli stati uniti hanno fatto una cosa ancora più semplice che che potevamo fare anche a livello europeo se la fonda laia non si fosse occupata di certe derive estremiste di timmermans ovvero dire bene io aiuto le famiglie in questo caso americane ad acquistare l'automobile elettrica ma voglio che il 40 per cento della componentistica sia fatta negli stati uniti a parte che noi non abbiamo le materie prime per fare questo però andare un po in quella direzione poteva essere utile gli stati uniti da un momento all'altro con questo inflection redaction act hanno attirato investimenti dall'europa ma volkswagen ha fatto in fretta e furia dei nuovi progetti per investire per aprire degli stabilimenti negli stati uniti ecco quindi c'è la possibilità anche per il mondo occidentale di attirare investimenti perché noi parliamo tanto dei fondi pubblici che sono importanti quelli del pnrr quelli di tutta la nuova programmazione ma non parliamo di come attivare meccanismi affinché anche i fondi privati siano partecipi della situazione perché altrimenti dal 2026 con cosa lavoreremo il pnrr termina nel 2026 deve essere un qualcosa che ci dà un obiettivo ma se non siamo in grado da uomini politici mi metto anche io insieme a tutti come responsabile di questo a coinvolgere il settore privato non andremo molto lontano per non parlare del fatto che sulla batteria dell'automobile bisognerebbe fare una valutazione sul suo impatto nell'interazione di vita che parte dalla da come si estraggono e raffinano le materie prime in africa eccetera ci sono molti molte questioni intorno alla transizione diciamo ai cambiamenti climatici e come puoi mettere a terra tutta la transizione ecologica ed energetica